Buongiorno a tutti, buongiorno a Londra dove sto, come vedete, anche io in isolazione come voi in Italia. Grazie a Livia di avermi dato la possibilità di collegarci comunque tramite video anche e grazie anche per l'invito di aggiungere qualcosa al nuovo quaderno degli amici di doccia. Per me è un collegamento molto bello questa volta per il quaderno perché collega la porcellana di doccia che amo molto con la città di Napoli dove ho passato molto tempo, dove mi sono anche sposata, infatti io mi sento un po' napolitana anche se sono molto onlandese come sentite. Allora, vi volevo presentare un oggetto adesso che viene dalla collezione Duca di Martina nella Villa Floridiana forse una delle collezioni più belle di ceramica ovunque, in qualsiasi posto del mondo. È una piccola saliera che ha una grande storia indietro. È un oggetto modesto che veramente in forma è molto europea, prende molto la forma di un oggetto di metallo forse di argento oppure anche di qualcosa di metallo un po' più modesto. Però il decoro è abbastanza ambiziosa. Ha qualcosa della fabbrica di Vienna, di Du Paquet, che era un po' prima di doccia, come sapete. E anche ha qualcosa da fare con la Cina nel decoro, nel senso che questi fiori orientali, fiori coreani, sono molto molto preso dall'idea della famiglia Rose e anche dei mari che si vede già entrare nelle collezioni medicei molto tempo prima. Vi volevo lasciare con un'idea di collegamento. Ecco, in questo oggetto si collegano un po' di Europa, la porcellana Meissen e Vienna e l'Oriente. Questo collegamento lo sentiamo nell'arte come adesso anche nel senso più personale. Mi sento collegato con voi e vi mando un abbraccio digitale e spero di vedervi molto presto in Italia. Ciao!